Scontro mortale tra due auto nella tarda serata di giovedì 7 settembre è successo a Milano in zona Quarto Giaro all'incrocio tra via Satta e via Vittani. Una ventenne è morta quasi subito dopo essere stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, mentre un ragazzo di 21 anni seduto accanto alla giovane è ora ricoverato in condizioni gravi al San Gerardo di Monza. Gli altri tre feriti a bordo dell'altra vettura sono invece stati trasportati in codice giallo al San Carlo e all'Humanitas. Dai primi rilievi dai danni riportati dalle due auto sembra che sia stata la Mercedes con a bordo i tre giovani a centrare la fiancata sinistra della Mitsubishi rossa spingendola fuori dalla carreggiata e poi facendola schiantare contro una cancellata. L'altra si è fermata sul ciglio della strada con la parte anteriore completamente distrutta. Secondo alcuni testimoni almeno una delle due auto sembra che stesse andando ad una velocità molto elevata. L'incrocio di via Satta e via Vittani non è regolamentato da un semaforo ma secondo la segnaletica stradale la Mitsubishi avrebbe dovuto dare la precedenza alla Mercedes, cosa che probabilmente non ha fatto tagliando la strada all'altra vettura e così venendo colpita sulla fiancata. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco hanno estratto i feriti dalle automobili, poi affidati alle cure dei sanitari di Areu. Per la ventenne dopo il trasporto in ospedale non c'è stato nulla da fare, il giovane di 21 anni in macchina con lei si trova invece in gravi condizioni. A chiarire la dinamica e a far luce sull'incidente gli agenti della polizia locale che ora dovranno capire le responsabilità dei conducenti delle due vetture, la velocità alla quale andavano e l'eventuale assunzione di alcolodroghe.